Hattori Hanzo è stato uno dei ninja più famosi e intraprendenti della storia giapponese, oltre a essere il leader del clan Ninja Iga. Hanzo è noto soprattutto per la sua fedeltà al daimyo Tokugawa Yeyashu, che sarebbe poi diventato il primo shogun del Giappone. Combatté al fianco di Yeyashu in diverse battaglie importanti, tra cui la battaglia di Sekigahara, che fu fondamentale per l'unificazione del Giappone nel tardo periodo Sengoku. Hanzo fu anche incaricato di guidare un gruppo di ninja che proteggeva il castello di Edo, residenza ufficiale di Yeyashu. Hanzo era noto per la sua capacità di infiltrarsi nei castelli nemici e di scoprire informazioni sulle forze avversarie. Nonostante la sua fedeltà a Yeyashu, Hanzo perseguiva anche alleanze con altri clan ninja quando era conveniente per i suoi obiettivi. Hattori Hanzo ebbe una carriera impressionante e una notevole influenza sulla storia del Giappone.